Il rapporto con il vecchio Enzo Ferrari, che era, come posso dire, un rapporto difficile per qualsiasi pilota abbia avuto accesso a Maranello, era paradisiaco. Quando capitava qualche volta che io, che mi occupavo di Gilles, andavo a protestare dicendo Ferrari bisogna fare qualcosa perché il pilota si sta un pochino montando la testa, ci sta scappando di mano, aveva immediatamente con un bel sorriso nel suo, che è poi il nostro dialetto, interveniva e diceva Lascia stare, e Villeneuve è fatto così, lo devi accettare così, e a me va bene così, e quindi andiamo avanti così, guai chi tocca a Villeneuve. Questo era il rapporto con me.